Carissimi amici di Santina, sto pinciando la coca, ma siamo di fronte a questo bellissimo manifesto che riprende il tema del nostro libro, che si chiamerà Quasi, sul maltratto delle donne. Non è un maltratto fisico, verbal, delle motere, delle donne. Non è un tema molto importante qui in Bolivia, siamo in Bolivia, ma stiamo a disaguadero a partire di un tema che è molto forte e molto vero anche per il nostro territorio. Juana, il libro sarà dedicato a lei, è una delle donne che piange a motivo del maltratto dei suoi mariti e dei suoi uomini. A tutti voi un saluto dalla Bolivia e dal Lugano.